Amici di Cittadariano, benvenuti ad Ariano 7. È stata una settimana molto calda nel mondo, basti pensare all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America, però noi, come ben sapete, facciamo il punto su quello che è successo qui ad Ariano nella settimana. Allora direi di iniziare proprio con una notizia delle ultime ore, il maxi sequestro di giocattoli da parte della polizia di Ariano, denunciata un'imprenditrice cinese titolare di un negozio aperto da poco in città. I giochi sono privi di istruzioni e sarebbero realizzati con materiali non a norma. Altra notizia calda riguarda un problema di vecchia data. Si va infatti verso la soluzione del problema del traffico sul tratto cardito martiri della statale 90 delle Puglie. La provincia di Avellino dà il via agli espropri per la realizzazione dello svincolo in località a Manna. Insorgono però le polemiche sulle tempistiche dei lavori. E a proposito di polemiche se ne è scatenata una sui social riguardanti appunto l'Arena Mennea. Alcuni utenti lamentano l'attuale chiusura della struttura inaugurata solo un mese fa. Dal Comune precisano che è stata data in gestione ad una ditta che si occuperà dell'assestamento del Prato per i primi sei mesi. E passiamo alla politica. Rese note a inizio settimana le liste per le elezioni provinciali del prossimo 27 novembre. Cinque le forze in campo per dodici posti disponibili in consiglio provinciale. Nessun arianese in corsa. Voteranno sindaci e consiglieri dei vari comuni irpini e la tornata elettorale si svolgerà appena una settimana prima del referendum che potrebbe abolire le province. E a proposito di referendum concluso il secondo appuntamento della rubrica del nostro sito di approfondimento sul referendum costituzionale. Argomento della settimana era il nuovo senato. Nel sondaggio il 61% degli utenti di città di Ariano non è convinto delle novità della riforma. E adesso passiamo allo sport. Valentina. Cresce l'attesa per il derby dell'Ufita di domenica tra Vissariano e Grotta, valida per la decima giornata di promozione. Nuovo capitolo di una rivalità storica. Anche in prima categoria si rinnova il duello tra le cittadine nella sfida tra Gravitlandi e Sporting Ariano. E non solo. Una divertente iniziativa di sport è rappresentata dal torneo cittadieriano. Un campionato di calcio a 5 riservato alla categoria Over 35 patrocinato dal Comune. Le 14 partecipanti si sfideranno in un girone all'italiana e poi nei playoff. Mario, ma chiudiamo in bellezza. E chiudiamo con una notizia, diciamo, di spettacolo. La modella arianese Raffaella Modugno presenta il suo calendario 2017 per la rivista For Men, il nuovo anno raccontato in 12 scatti hot. Grande successo per lei dopo la partecipazione al reality Pechino Express. E noi vi ringraziamo per essere stati ancora una volta con noi. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo di iscrivervi anche al canale YouTube di Cittadariano. Ci rivediamo la prossima settimana. Alla prossima.